Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non la sappiamo, non la sappiamo. Sto ripassando. Quella con il video dove vengono gli occhiali probabilmente sono... Stavo stessimo facendo... Ah sì, quello che è la tua indestra tua pasta. Esatto. Stiamo facendo lsd. Lsd, scusate. Per me. Se vuoi ti fai bioplatonica, noi facciamo lsd, può venire qualcosa di interessante. Se noi ci facciamo lsd... Che la serie Livio? Sì, quello che stai suonando è bello. Io lo faccio volentieri allsd anche da solo. Grazie! 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 Dai loちゃん con lo compere Non watcia il proprio bambco 500 mediagrishanfue daime opere Le que hebben delle sensibilità Grazie a tutti